E' stata la banda comunale di Gubbio, diretta dal maestro Andrea Angeloni, ad inaugurare la decima edizione di Gubbio Oltre Festival, l'ormai tradizionale manifestazione musicale che caratterizza l'estate eugubina. Il concerto, nel sempre suggestivo chiostro di San Pietro, ha visto la partecipazione anche dei maestri delle masterclass del festival, Gabriele Falcioni, Massimo Morandini, Paolo Parabagna, Simone Simonelli e Andrea Tofanelli. In prima fila, a godersi il concerto, il vice sindaco di Gubbio, Francesco Gagliardi, e gli assessori Paola Salciarini, Micaela Parlagreco e Lucia Rughi. Prossimo appuntamento con Gubbio Oltre Festival, questa sera, giovedì 25 luglio, nel chiostro di San Domenico alle ore 21.15, con la Gubb Bress Oltre Festival Quintet e il concerto La Magia degli Ottoni, un viaggio musicale dal rinascimento ai giorni nostri. Continueremo in agosto con altri appuntamenti. Io ringrazio la banda, ringrazio la Scuola Comunale di Musica, Musica Nova, e gli amici della musica che sono ormai arrivati a questo decimo appuntamento, perché Gubbio Oltre Festival è arrivato alla sua decima edizione. Un'annotazione particolare, tutti i concerti sono gratuiti ad offerta libera, insomma, ma comunque ingresso libero, e quindi diciamo è un regalo di questa decima edizione di Gubbio Oltre Festival. Quindi grandi artisti, grandi appuntamenti di Musica Classica, Musica Etnica, Musica Award Music, eccetera. Gubbio Oltre Festival